Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo un'anticipazione non ancora ufficiale per la prossima stagione, la 2023-24, la prima maglia del Barcellona in edizione Player. Grazie per la visione! Come detto non sappiamo se sarà quella definitiva, però per il momento nella mia classifica prende 4 stelle. Mi piace più quella di quest'anno, ma devo dire che anche questa è molto bella, con questa fascia molto larga e la rifinitura in oro. Il costo lo vedete qui sopra? Basso, su questo non c'è da aggiungere altro, andate a mettere alla prova il sito. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e allora andate a vedere quali sorprese vi attendono. Ora prima di lasciarvi la parte finale, mi raccomando, regalateci un grande like e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che è l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.